Per 400 euro e quattro fucili, non valeva la pena conciarli in quella maniera, l'hanno proprio pigiati tutti. Picchiati, legati, scoccio nella bocca e poi chiusi dentro ad un armadio. La notte terribile dei due anziani coniugi, Dino Maggi di 85 anni e Anna Ronaldo di 81, si consuma in questa abitazione di palazzuolo comune di Monte San Savino. Alle due di notte il marito, a sentire dei rumori sospetti, inavvertitamente pare abbia aperto la porta ed i malviventi in tutto e tre con accento italiano fanno irruzione. Dopo aver avvessato le due povere vittime con botte e schiaffi, averle immobilizzate, i malviventi rovestano dentro casa portando via 700 euro tra soldi e catenine, tre fucili e l'auto del marito con la quale sono fuggiti. Soltanto intorno alle 7 del mattino l'uomo riesce a liberarsi in qualche modo e gridare dalla finestra il nome del vicino. Stamattina quando ho aperto le persiane per uscire fuori, ho sentito urlare il mio nome, pensavo che fosse un altro che si chiama come me, qualcuno che lavorava in questi vigni. Come e come e che cosa sei? Graziano, c'è insieme di chiamare Graziano. Sono venuto di dietro e ho visto che c'era questo Dino dalla finestra di dietro della camera che chiedeva aiuto. Mi ha detto che hanno rubato tutto, ci hanno picchiato, siamo chiusi in camera, chiedeva aiuto. Sono venuto giù, era tutto aperto qui, la porta lì era chiusa, ho preso una scala, sono salito su, sono entrato, ho visto la casa come è ridotta, tutto sotto sopra, ho devastato tutto, le maniglie della porta non c'erano, ho trovato una maniglia e le ho rimesse dalla cucina per entrare. Loro erano nella camera da letto chiusi a chiave, ho aperto la chiave e sono trovati loro in condizioni traumatizzate, sei minuti insomma, sì perché lui era mutante, lei ha mezzo pijama comunque, poi c'aveva la bocca che probabilmente gli avevano messo qualcosa perché non urlasse la bocca, si era liberata, c'era come gli ematomi del sangue, delle tracce. E niente, poi ho chiamato il 112 e tutto il resto, lo sapete voi. Io credo che in questi casi non c'è nessuna pietà, nessuna... Chi si comporta così non è uno che ha bisogno, questo è peggio degli animali che c'è un grande rispetto degli animali. I malviventi avevano persino tagliato i cavi del telefono per evitare che i due poveretti dessero l'allarme. I due coniugi sono stati trasportati all'ospedale della Fratta intorno alle 8.30 del mattino, la donna ha riportato escoriazione al volto, torace, arti superiori, l'uomo escoriazione ad una gamba, ad una mano. Ma le ferite interne, quelle che Dino e Anna porteranno nella loro mente, sono ben più gravi. Mamma mia! E vi diamo. Mamma mia! Mamma mia!